Dove andiamo? Ma non possiamo andarti qui Eh ma devo fare il coso qua Devo fare sta parete qua Ok allora noi andiamo qua al massimo Sì noi andiamo qua Grazie Oh merda raga Eh vai buttati buttati Lì io devo andare a ping Dove cazzo c'è Ma dove cazzo c'è? Ma dobbiamo andare lì o là? Non ho capito No lì o va lì Ah ok Perché sono così alto? Non c'è nessuno qua Grazie Dea Ma io devo venire? No 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 grazie di quello là c'è Ma non c'è nessuno Guarda la c'è Ah grazie Lì eh Eh non l'ho visto Eh ma ero andato in bagno Stasera mi troppano tutti di merda Carca miseria Grazie Lì eh Non mi dono più un k No no grazie Lì eh Guarda io ci sono sempre per le donazioni E ricordo Ah ma non posso donarti a te Ma aspetta un mese Anche volendo Anche volendo poi Grazie Lì eh Oh gentile eh Sai che mi ha appena fatto arrabbiare? Grazie la droga eh Come? Mi ha appena fatto arrabbiare come una bestia Ma chi? Quell'altro Ancora? Ah beh ma ma sempre Perché sono entrato in live e gli ho donato E eh Ah beh se vuoi Eh Per farti Per portare fortuna Non mi servono Sta roba qua Ah ok Ho donato 400 bit È come se io dico È come se ti dotino Tipo 10 euro E dico ma per come andato 10 euro Sì Tieni lì Esatto Tieni lì Tieni lì che non ho bisogno Allora mi tengono Ma ma Adesso Adesso Vediamo quando se si chiude in questa zona Sono lama 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 aiutatemi Arrivo Lo sento Lo sento Lo sento Ho andato cazzo Ma che cacchio è Ma hai ucciso Mi sto ammazzando Arrivo eh Sì mi è morto già con macchina Ok Ho rubato Ho rubato tutto il Troppo forte Rubare il coso che cura Oh aspettami Usarlo però Aspettate Aspettate Sto arrivando eh Dove cazzo siete Aspettateci cazzo Non ci arrivo più Qua Avete colpi pompa Quanta roba c'hai qua però Solo il coppio di cecchino Ti lasciate Quella è la mia Venite Vai Ci siete Non state mettere un piccino Che sennò vi riprendo a voi E non ti ammazzare Sono gris Scusate Vai Dopo Vai Tu e io Sì Non è vero Mitevi Adesso non posso più curarvi Aspettate un atto Addea Sì no Ben tranquillo Sai cosa vendere le NPC Ah è vero io penso dove Raga passi passi Ne vanno Non arrivano Stanno pushando Non so No 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 Stanno andando Lo seguo di nuovo Stanno andato Ah chiapala 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 Chiude qua Ce la fai? C'è uno Non sa che uno solo Sta scappando sta È uno Sta andando animare Che il coglione Vedi eh Si si Però rianimare Sta scappando sta Ma dove Lì a seguo Ci vieni Se hai visto dove chiude? No Si ho visto Dove hai puntato tu? Ping Ping Ah giallo Ma l'ho comprato anch'io lo sapevo scuso ma io l'ho detto ormai scuso ma dove è andato troppo io eh siccome ci arriviamo di 120 ragazzi a terra a terra a terra ma non è morta per allora no eh la c'è qualcun altro te lo dico mi stava rubando le cue mi stava rubando da mia busta stiamo qua da poco arriva la safe l'androne buttiamo qua si ma piglio qualcosa qua piglia tu la oh ma è quasi un gigantesco da lutano un po' sforo al solo eh lo so però c'è un troppo anche qua c'è te lo dico specchia ti piglia tutto che cazzo te ne fotte ma dove cazzo siete c'è troppa roba specchia ti non c'è tempo ma non so tempo non è con cecchino c'è quello li qua da qualche parte te lo dico c'è il lupo pure proprio non per caso chi che mi spara con la vado sto lupo maledetto ma era un po' bozzo perché tipo si è girato mi ha provato a sparare ma l'ho ammazzato prima ma l'hanno presa lì e lo sapevo nooo si è vendicato quello mi sa ma chi che ti ha ucciso ma sono il tre aiuto scappa a uno l'ho ammazzato te lo dico nooo merda l'ho ucciso l'ho ucciso uno l'ho ucciso terra terra ma cazzo è l'altro non lo so eccolo oh uuh no è un amicidio amicidio madonna per un pelo ma cazzo è è morto è morto era qua cazzo nell'acqua cosa ha morto ce l'avevi dietro al culo o ce l'avevi praticamente io è quella di lì è quella cazzo è quella di lì è quella aspetta un attimo aspetta un attimo perché ho perso ho perso la cosa cazzo scambiate la corona e cambiate bravo l'hai scambiata io l'ho scambiata aspetta un attimo non mi fate andare in panico cazzo un attimo ma che cazzo Gesù Cristo io vado vai l'ho scambiata vai ora me l'ha scicchinata da sopra guarda eh oh Elia prendi subito la corona prendi eh buttagli una cosa la prima cosa che devi prendere la corona subito perchè quella è la corona non puoi scompare sennò io l'ho già cambiata adesso io la cambio non farò una volta la cambio ma c'è bisogno cazzo qua non ho fatto gli scudini serve a me gli scudini pure mi servono basta cambiare la corona non avete scudini da darmene? eh sì eh io ho questo qua venite raga venite raga venite aspetta aspetta a fare quelli aspetta aspetta che me ne faccio anche uno ma via raga non ci sta capendo niente vai mi sballata ma eh si aspetta vai è finito? basta eh sì ce ne avevo solo tre ce ne avevo in canna aspetta che dove accadà la mia roba adesso? non c'è più niente da pigliare qua no lì dobbiamo andare non c'è tempo via lì scappa no dove sei andato? dall'altra parte no lì sei chiusa da lì che cavolo uscite da state cazzo ma porca di quella usciamo 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 sono qua sotto si stanno scassando ma non c'è più tutto questo è lo pigliare queste cazzo di ah ma stai un edge c'ho uno rovinato quello rovinato cazzo di arrando rovinato dove è? ah vada non so che noo mia che mira di merda che c'è raga lì c'ne uno che mi sta distruggendo ma terra uno terra uno con le che mi ha avanti eh 42 40 gli ho fatto quello dove dico terra terra ma quelle sono altre ancora ma stiamo sparando eh ma che sta arrivando uno te lo dico è bianco è bianco una di quelle due madonna un colpo gli mancava se sta eh ma questo è un colpo gli manca eh ma questo è un colpo gli manca eh porca ok questo l'ho fatto eh porca puttana dov'è? 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 che cazzo è? è qua fuori dai che bianchissimo ha spaventato ma è qua fuori dove cazzo è che è? sta scappando di qua ammazzato 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 99 l'ho fatto easy però no che ora? io muoio avete preso la scheda? ahhh mi ha raro però cazzo venite ragazzi proviamoci eh oh che la mamma di te te l'ho massacrato eh più tanto che te l'ho massacrato eh più tanto che te l'ho massacrato eh in realtà con questo ho capito però porca eh lo so ma posso fare tutto ma c'è l'ultimo cazzo seguiti qui no vabbè incominciare no miseria tu vacca beh la cosa te la vuoi pigliare? quante corone ci sono? ce ne sono tre cazzo eh ma adesso vedi che scada mazzuccane no 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 una te l'ho scambiata una eh eh quale è però? eh quella tenuta a casa vicino alla casa mi sembra che vale ria via tre scompagni una è scomparsa infatti l'ho capito voliamo quella lì quella lì quella lì quella lì vado no 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 tranquilla tranquilla forse raga ho ma dove cazzo ah c'è una macchina sta andando arrivo 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 no ma non è qua sta andando altra parte no no aspetta raga un attimo con calma perché raga non c'ho una minchia fermi un attimo per piacere fermi con ciò cioè non mi fai dare giuroci perché mi porta il neuro e raga un attimo fermi posso vai aspetta porca troia un ciò eh ecco questo ah c'è il barile qua buttati buttatillo fermi fermi e qua c'è dappine un cavo qua il cavo ci sono munizioni anche che le lascio si ma tanti inutile tanto io adesso qui adesso fa un po' è inutile non ho niente ma la macchina la ha bisogno aprire il cavo ah c'è munizioni qua eh te lo dico allora che cazzo è il cavo qua ma dove sei lì eh ma lì non c'è il cavo ci sono le puoi prendere le le armi con le chiavi ma non c'è il cavo vedi ma facciamo le colpi ladrone dove cazzo sei e lì te lo lasciate un po' dove ah te lo ho puntate non le vedi ma cazzo a parte che eh ma no erano lì già non se vuoi tenete ancora te ti nasce un po' qua ah no 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 aspetta eh no ma non sono tante quelle ci sono tante però se vuoi tenete ancora ah vabbè va bene va bene sono pieno io eh ciocchino misero ciocchino misero ciocchino io posso non lo trovo non ne ho tantissime dai qua ne ho 12 ne ho ne ho 12 ne ho non posso no sono sparata ginevra andiamo 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 no cazzo aspetta come è morta morta 101 1 1 armi cazzo corre quello vale cazzo ma quello quanti sono no aspetta che stiamo in due qua 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 45 49 49 49 da un colpo cazzo 104 la 105 manca a quello gli mancava un colpo cazzo se me ce ne uno eh eh si l'ho colpito a questo vedi guarda qua si è ritrovato preso fammi caricare il pompo almeno eh io non c'ho vivo perchè non ho è uno come me merda attento dall'alto attento che è un carcazzo uno da me qua 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 eh no è uno l'ha mortato è uno che c'è il nero raga però vento di nuovo ho calcato bianco quello lì eh ma dov'è hai visto dove sono io si sta curando ma dove cazzo è che si sta curando l'ho ucciso 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 prendetegli la scheda prendetegliela prendetegliela ho scambiato anche la corona lì la puoi ripigliare vedi si è scambiata si è scambiata si è ma qua ce n'era un'altra comunque quello ce l'aveva questo qua oh si ma cazzo ma io non faccio niente che me lo trovo davanti si è ritorna qua ritorna qua eh ritorna qua eh ritorna qua ritorna ripigliati le armi lì eh siamo in 15 raga abbiamo 14 kill già non è male no ci sta ci sta ginevra vieni vieni che ho il cannone sono dov'è il tipo che stavo mattando è lì nooo cazzo 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 ancora cazzo vuoi volarmi ma porca puttana porca bro io non riesco a segnalarmi 105 ma come cazzo sparo si vabbè non li vedo neanche io questi qua ma sparata la pietra che gli casca in testa ahhh 82 a terra 1 a terra 1 la a terra 1 la ma dove? e come facciamo? ma non lo so però che si disipula ma non lo so però che si disipula ma non lo so corre porca di quella io vado a pushar quello vado corri porca di quella puttana corri non ci arriveremo mai che cazzo eh no ma uno lo curano dei due però per forza eh vabbè uno però sarà bianchissimo forse questo qua non penso che ammazzato uno eccolo lì lo curano di sicuro eh l'altro l'ha curato sicuro raga qua sopra ce n'è uno oh merda ammazzati redshot ammazzati redshot raga li sto terminando ma dov'è? ecco lì no è ancora sopra eh c'è uno ancora sopra qua oh a terra un altro a terra un altro a terra un altro ci sto trovando l'ho ucciso questo qua sopra l'ho ucciso questo qua sopra eh è l'ultimo eh è l'ultimo raga è finita è l'ultimo raga è l'ultimo raga come l'ultimo raga è finita la partita no 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 c'è l'ultimo di questo di qua intendo ma sei sicuro? dove? si si perchè ero rimasti a terra in tre forse è curro lì io ne ho messi due a terra raga c'è uno la eh che mi spara eh uno sicuramente c'è un'altra no no ma non è da solo quello mi sa oh c'è uno al mare qua raga con il secco mi ha conseguito questo era un bot ma che cazzo faceva qua questo è morto subito? si quello si ma era un bot quello no 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 c'è uno lì eh vi ho detto eh dove? è lì mi sparava dalla da dietro la quindi sono lì è sono lì sta lì sta lì è un dolcecchino uno sta lì di sicuro mi hanno provato a cecchinare mi hanno provato da quella direzione raga io mi vado da aprire sta roba qua qualcuno io 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 ho aperto aspetta aspetta andiamo tutte a scendere che non facciamo il volo perché sapevano questi pochi c'è colegend si vola speciate raga compiamo quella roba che ci attiva il RIT non riesco a parlarci ah è spostato RIT qua ce l'attiva però eh qualcuno riesca ad attivarlo io non li puo parlare io io ce l'ho fatta addio nooo dove andiamo? andiamo sopra la torretta qua c'è qualcuno lì eccoli nella torre no sono qua ormai porca puttana no questo è uno solo questo qua è morto che cogli è morto da solo questo qua è morto ma quelli sono botte raga porca puttana però no ma sono botte non ci posso credere vai raga ormai son botte wow wow e anche un uccisione vado ma lasciare da lì 5 vittori con la corona 5 vittori con la corona non ci posso credere